...con la musica, pittura, cielo, come se fosse un'atena. Questa, l'idea di spettacolo che Michele Bruscella e il suo staff desideravano regalare al pubblico di Caput Lucis. Un viaggio immaginario attraverso la sequenza della musica e dei colori abbinati, passando dal rosso dell'amore al giallo del sole, al verde della speranza, al blu del cielo, per trasmettere quell'energia e quell'emozione che solo l'arte piro-musicale riesce a fare, con musiche gioiose che infondono felicità, fantasia e buon umore, di cui tutti sentiamo il bisogno. I signori del fuoco scandiranno con dieci tuoni l'inizio di ogni spettacolo di questa edizione dedicata alla Big Bruscella Fireworks. Signore e signori, Caput Lucis! Dai un po'! Non si vedono bene, anzi. 10. 10 perché sono vere il fatto di 10. 10. 10. Che bello! Grazie a tutti 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 Grazie a tutti